story time evoluzione radio amiche ed amici dei social sono Gianluca Ruopole guardate un po' chi abbiamo in nostra compagnia quest'oggi Silvie Cupaiolo ciao Silvie bentrovata ciao Gianluca è un piacere averti nuovamente qui Silvie ricordiamo Silvie Cupaiolo titolare di Rosso Mattone SRL agenzia di intermediazione immobiliare giusto Silvie esatto allora quest'oggi la nostra Silvie ci ha raggiunto per approfondire un argomento ossia i documenti necessari per vendere la casa approfondiamo Silvie ok allora è una cosa importante sapere che quando dobbiamo vendere una casa la prima cosa che dobbiamo fare è andare nei nostri cassetti e cercare i documenti qual è il documento principale per vendere la casa è l'atto di provenienza tanti lo conoscono come il rogito non è proprio esatto definire solo il rogito perché possono essere diversi i documenti comunque è quel documento che abbiamo fatto dal notaio quando abbiamo acquistato la casa e quella diventa un po' diciamo la carta di identità della nostra casa di fatti con questo documento cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a leggerlo e dentro lì troviamo tutta la storia e quindi ci vengono indicati tutti i passaggi e questo ci dà modo di andare a recuperare tutti i pezzettini che via via questa casa ha recuperato negli anni è molto importante perché per rogitare e fare un altro atto di vendita il notaio ci chiederà tutti questi passaggi per cui si cercano se per caso qualcosa non c'è non ci dobbiamo preoccupare perché c'è sempre la possibilità di andare presso il comune in cui la casa in cui è collocata la casa e possiamo andare a chiedere di recuperare tutti questi documenti ovviamente questo richiede tempo quindi quello che suggerisco a tutti chi deve vendere casa è sicuramente fatelo subito non aspettate di mettere in vendita di fare l'annuncio di ricevere i clienti ma subito fate l'esame di tutta questa documentazione quindi il messaggio è che magari il comune di riferimento potrebbe metterci un po di tempo esatto soprattutto i comuni grossi per esempio io opero su milano e quindi ti puoi immaginare il comune di milano quando gli vai a fare una che si chiama tecnicamente accesso agli atti a volte ci vuole anche un anno e caspita quindi è molto importante cominciare subito con questo primo passaggio la domanda è ma in questo documento di cui parlavi c'è scritto già tutto o c'è bisogno di una serie di documenti allora in questo documento c'è scritto tutto quello che è successo fino al giorno in cui tu avevi comprato questa casa dopodiché se tu dopo averla comprata hai deciso di fare una ristrutturazione quindi hai cambiato l'assetto della casa hai fatto dei lavori allora a questo punto vuol dire che tu avrai fatto delle altre pratiche sempre depositate al comune e quindi dovrai avere gli originali anche di queste che si andranno a aggiungere alla storia della tua casa e quindi che saranno riportate nell'atto con il quale la casa sarà venduta a un'altra persona quindi oltre al documento che ci hai detto all'inizio chiacchierata c'è bisogno comunque anche dell'aggiunta dell'aggiornamento esatto tutti gli aggiornamenti vanno aggiunti e quando abbiamo tutto quanto allora siamo pronti per incominciare a pensare di mettere sul mercato la casa se manca qualcosa possiamo fare l'accesso agli atti se c'è qualche passaggio che è mancato in tutto questo percorso possiamo comunque diciamo individuare quella che è la strada insieme ai tecnici per risolvere le eventuali problematiche e quindi riuscire poi a fare la nostra compravendita benissimo ecco questi documenti che si aggiungono poi quelli dell'aggiornamento dovrebbe essere un po' più facili da reperire giusto perché sono più recenti allora certo perché soprattutto perché poi nel tempo diciamo che c'è stata anche un'evoluzione nella gestione di questi documenti per cui è vero ci sono molte più regole da seguire ma questo ci consente di avere dei tecnici che ci danno la pratica quando la fanno in comune quindi noi se siamo bravi e conserviamo tutto bene abbiamo tutto quello che ci serve per vendere benissimo qualcos'altro da aggiungere abbiamo detto davvero tutto allora direi che più o meno abbiamo detto tutto mi permetto solo di aggiungere che serve anche il certificato di prestazione energetica che è banalmente quel documento che ci dice di che classe è la casa ma senza quello il notaio non può rogitare quindi è importantissimo quello tutti dovremmo averlo assolutamente quando decidiamo di vendere o di affittare una casa dobbiamo averlo benissimo silvi direi che sei stata precisissima mi raccomando per coloro i quali ci stanno guardando questa era la appena la prima clip ce ne sono altre quattro quindi vi invito a restare con essi attraverso i canali social di rosso mattone così insomma da scoprire quali saranno i nuovi argomenti grazie alla prossima silvi ciao story time evoluzione radio